Il mondo del fumetto fa parte assolutamente a pieno titolo a quello che è il sistema culturale italiano e quindi, ripeto, come ho detto, merita tutta l'attenzione, riconoscimenti e valorizzazione sempre più forte e più sostanziosa. Qualcuno in passato ha pensato o ha considerato che il fumetto e il cartoon fossero qualcosa di secondario, in realtà hanno dimostrato e continuano a dimostrare che non è così, anzi è esattamente il contrario. Credo che questo sia uno degli eventi che dà lustro al sistema paese a tutti i livelli. Io sono certo che tra l'altro acquisirà sempre più una valenza internazionale mondiale. E' uno dei comparti che in qualche modo inforza ulteriormente tutto quello che è made in Italy e quindi editoria, informazione, fumetto, cartoon, libri, tutto ciò che merita di essere tutelato e sostenuto.